Innanzitutto questo è un paese sempre che corre sull'emergenza, perché poi alla fine si arriva come in questo caso, perché è la Corte di Strasburgo, eccetera. E facendo anche una grande confusione, spesso e volentieri, anzi alimentando poi la confusione. Perché quello che noi diciamo da sempre è che i diritti delle persone vanno garantiti. La sfera di vita privata è una cosa e deve essere tutelata, anche il diritto delle persone a volersi bene e a stare assieme. Con una regola civile che garantisca a tutti, ovviamente stavamo parlando prima di pensioni, di reversibilità, di diritti. Cosa differente invece è l'aspetto legato, chiamiamolo al costume, legato all'apparenza, legato anche all'esteriorità. Ci sono state, ci sono spesso e volentieri dimostrazioni di esteriorità eccessive, che vanno oltre le regole, ma soprattutto che vanno oltre anche il buon gusto. Bisogna distinguere quindi due aspetti. Un conto è la tutela legittima dei diritti delle persone. Un conto è la sfera di vita personale, altra questione è fare diventare invece delle espressioni di esteriorità una regola generale di vita per tutti, andando addirittura ad annullare delle convenzioni che regolano poi i rapporti tra le persone. Il fatto che ci sia una famiglia che possa adottare il figlio se c'è una mamma e un papà è un criterio di base, di fronte ai quali noi l'abbiamo sempre detto in maniera chiara, non si può derogare. Il fatto che due persone possano convivere, stare assieme, che abbiano delle regole che le garantiscono rispetto anche a una tutela dei diritti, l'unione di fatto sostanzialmente non è qualcosa che ci spaventa al confronto, assolutamente. Ma ripeto, bisogna essere chiari su quali sono i paletti. Ciò non può andare a detrimento, non può andare a cancellare quello che è la forma della famiglia che può adottare figli e che deve crescere figli. Grazie a tutti.